Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio della Vintage Craft. Nella scorsa puntata ho proseguito la costruzione dei vari meccanismi per poter ottenere i pannelli solari. In questo episodio ragazzi arriveremo finalmente al nostro obiettivo, ossia quello di ottenere gli HV Solar Array. Ok ragazzi, ora concentriamoci sulla produzione dei medium voltage solar panel. Eccoli qua. Abbiamo bisogno ovviamente dei low voltage che abbiamo già fatto nello scorso episodio e dell'MV Transformer. L'MV Transformer non è affatto difficile da fare perché dobbiamo semplicemente avere un machine block e sappiamo farlo e poi questi cavi isolati d'oro. Come vedete abbiamo bisogno di gomma e di gold cable che si fanno con del semplice oro. Ok, ho fatto spazio e ovviamente mi sono già craftato il necessario. Per questo primo pezzo del macchinario andremo a creare oro, gomma e ferro raffinato per fare appunto il nostro MV Transformer. Allora facciamo uno, due, tre spazi. Mettiamo uno, due e tre casse. Perfetto. Sopra mettiamo i soliti collector MK3. Allora quindi uno qua, uno qua e uno qua. E sopra come abbiamo già fatto altre volte andiamo a mettere la glowstone. Allora qui andiamo a produrre resina con cui faremo la gomma, qua andiamo a produrre il ferro con cui andremo a fare il ferro raffinato e qui andiamo a produrre oro. Ok, perfetto. Poi ovviamente dobbiamo estrarre tutto quanto dai filtri, quindi così. Allora ho fatto un altro cacciavite così possiamo girare le cose e qua possiamo andare a fare i primi crafting. Allora qua possiamo uscire così e mettere una di queste crafting table. Ok, la mettiamo qua e in questo punto qua possiamo andare a fare i cavi d'oro. Mentre qua andiamo a preparare come dall'altra parte la fornace quindi. E anche qua andiamo a preparare la fornace. Benissimo. Ovviamente dobbiamo andare a mettere sopra questi per alimentare la nostra fornace. Così. E sopra andiamo a mettere sempre la glowstone. Poi ovviamente dobbiamo estrarre da qua. Quindi così e così. Perfetto. Allora ho girato queste cose in questa maniera che mi rende tutto molto più semplice. Allora sono andato a prendere altre cose che mi servivano oltre a girare come vi avevo detto questi meccanismi. Allora qua dobbiamo andare a fare prima di tutto i nostri cavi in oro. Quindi dobbiamo uscire sicuramente da qua con il crafting che ho già preparato dei gold ingot con i gold cable. E dobbiamo andarli ad unire alla gomma in questa maniera qua. Quindi io farei una crafting table automatica direi qua. Postarci in mezzo. Perfetto. Quindi andiamo a fare così e andiamo a fare così. Ok. Poi qua dobbiamo ovviamente uscire con un filtro. Quindi vado a prendere un filtro. Ok. Lo mettiamo qua e adesso devo andare a mettere delle cover qua per poter evitare che si connettano i pneumatic tube nel punto sbagliato. Allora dobbiamo mettere uno di questi e se non sbaglio due di questi. Oh ce l'abbiamo fatta. Adesso da qua dobbiamo uscire ancora. E andare a fare un altro crafting. Perché qua dobbiamo fare il machine block. Quindi io lo metterei qua. Questa crafting table. Non so perché c'è questo pannello. Ragazzi ci sono dei problemi qua. Sta buggando tutto. Non capisco cosa è successo. Non importa. Andiamo a fare così. Qua andiamo a mettere il filtro. Ma ragazzi ma ci sono dei bug qua. Dunque sono riuscito a sistemare nonostante i problemi con i muri invisibili. Comunque qua devo mettere l'ultima crafting table automatica e la metto qua in mezzo e farò entrare entrambe le cose. Quindi da qua possiamo prendere i machine block. Quindi così. Ok. Scendiamo e li facciamo entrare qua. Benissimo. E da questa parte invece facciamo entrare i nostri cavi in questa maniera. Così. Ok. E qui possiamo mettere il filtro ovviamente. Che adesso vado a posizionare. E una delle ender chest nuove che ho fatto. Allora così il filtro. Ovviamente lo giriamo. Voilà. E l'ultima ender chest. Ragazzi si stanno buggando sempre più cose. Comunque ce l'ho fatta. Ok ragazzi. Questa pazzia è terminata. Ho messo tutti quanti i wireless receiver. Ovviamente ho messo a posto anche tutti i filtri in modo che escano solo gli oggetti giusti. E ho anche fatto tutte quante le ricette di crafting. Se tutto va bene qua dentro dovremmo avere gli mv transformer. Ragazzi proviamo ad accendere il meccanismo e controlliamo. Allora il ferro esce di qua. Colo raffinato esce di qua. Qui vedo i machine block. Qui vedo questi. Vedo i cavi. Ragazzi mv transformer. Dimenticavo di dirvi che come abbiamo visto all'inizio la produzione di oro è la cosa più complicata perché appunto è molto molto lenta. Quindi una volta che abbiamo finito questi non siamo più in grado di andare a fare altri medium voltage. Per dare una mano a questo energy condenser o andiamo ad aumentare il numero di questi mk 3 energy collector. Oppure oppure andiamo a dargli una mano mettendo della red matter. Come vedete ragazzi facciamo così e con un po di red matter che produciamo tranquillamente perché abbiamo la nostra farm fuori andiamo ad aumentare la produzione di oro e quindi anche di questi cavi. Allora ho provveduto ad allargare ancora il laboratorio perché adesso andiamo a fare il crafting per i medium voltage solar array. Allora dobbiamo prendere i low voltage solar array che sono nella ender chest codice 2 verde quindi 1 2 3 e la mettiamo qua questa e poi andiamo a prendere quello che abbiamo appena craftato di là cioè questi mv transformer. Quindi abbiamo quello che ci serve ok e ok esattamente come quello il nostro meccanismo poi qua abbiamo l'automatic crafting machine la mettiamo qua entriamo con i pneumatic tube da questa parte e da quest'altra qui usciamo con il filtro lo giriamo ok così e qua andiamo a mettere un altro ender chest che ho codificato con 3 verde ok quindi è il terzo pannello solare che andiamo a fare adesso ovviamente dobbiamo andare a mettere questi wireless transmitter ok ho sistemato sono dovuto uscire e rientrare allora mi servono 8 di questi ok per fare il crafting e qua ci sono già dentro questi quindi mv transformer al centro e 8 di questi qua in questa maniera abbiamo i medium voltage solar array ragazzi se accendo questo secondo me andiamo a produrli eccoli qua e dunque ragazzi siamo giunti all'ultimo passaggio quello che tutti noi stiamo aspettando ma è compreso ossia la produzione automatica degli high voltage solar array abbiamo bisogno ovviamente dei medium voltage e degli hv transformer come vedete alcuni di questi oggetti ce li abbiamo già noi adesso andremo a produrre in automatico questi cable e questi energy crystal che si hanno con dei diamanti e con la redstone per quanto riguarda i diamanti sfrutterò la farm dmc che ho in casa in questa maniera non devo rifarne un'altra in questo punto per quanto riguarda invece gli oggetti che già abbiamo ho fatto apposta la suddivisione con l'ender chest per evitare di ripetere questi meccanismi perché se noi volessimo fare una cosa totalmente automatica dovremmo rifare questo meccanismo in realtà lo sfrutteremo sia per arrivare a fare i medium voltage sia per gli high voltage quindi a questo punto direi di iniziare a scavare forse l'ultima parte di questo laboratorio per lasciare spazio all'ultimo pezzo di farm ok ragazzi direi che ci siamo andiamo a fare il primo meccanismo per fare i cavi quelli ad alta tensione allora abbiamo bisogno ovviamente dei nostri filtri per far uscire le cose da qua ora tac e tac oramai lo sappiamo a fanno anche luce quindi questo è utile anche perché abbiamo la glowstone qua perfetto così allora qui andremo a produrre i cavi quindi abbiamo bisogno di gomma e di ferro perché dobbiamo andare a fare il ferro raffinato ora usciamo di qua e facciamo le solite due fornaci quindi questa così poi andiamo a fare le due fornaci rm che dovrei aver fatto eccole ho sempre il bat box cose strane nell'inventario perché ogni tanto entrano nelle casse e vado a prendere cose poi andiamo ovviamente a mettere sopra questi per alimentare quindi facciamo così e così benissimo quindi dobbiamo entrare in una di queste crafting table automatiche direi che posso metterla qua tranquillamente direi di sì poi usciamo e possiamo andare di là va bene l'altra crafting table automatica la possiamo posizionare qua che servirà appunto per unire le due cose ok direi che potrebbe funzionare così sì direi proprio di sì ok perfetto dobbiamo mettere anche qua due pannelli uno lo mettiamo in questa posizione qua e l'altro lo mettiamo in questa posizione qua così abbiamo l'uscita e l'entrata qua è perfetta da questa parte invece ci basta uscire e rientrare in pratica nell'altra oddio non con questo filtro stavo guardando come erano fatti le cose di solito scendiamo di qua ed entriamo nella crafting table ok perfetto ho sistemato come al solito codice 107 resina ferro gomma ferro raffinato le varie ricette di crafting le ho fatte ora vediamo se riusciamo a produrre i cavi hv allora facciamo partire tutto qua mi sembra che stia andando qua esce il ferro raffinato lì esce la gomma qua escono questi e qua abbiamo gli hv cable perfetto questa prima parte è pronta passiamo dunque a quest'altra molto più semplice perché dobbiamo semplicemente andare a produrre qua della redstone dovrei averla da qualche parte ragazzi vediamo un po se non ne ho già dentro qua ecco qua perfetto dall'altra parte invece abbiamo detto che andremo a prendere i diamanti che devo andare però a mettere nella cassa però li facciamo comunque uscire con i nostri filtri qua vediamo se ci riusciamo no devo metterlo qua altrimenti non ci riesco giriamo i filtri qua è molto semplice perché dobbiamo solamente andare a mettere una di queste automatic crafting table la possiamo posizionare tranquillamente qua e andare a posizionare queste cose così qua sopra un altro filtro e questo qua entrerà in un'altra ender chest che ho già preparato che dovrebbe essere questa qua vediamo se ho indovinato allora così dunque sono tornato qui in casa perché qua dobbiamo andare a produrre diamanti quindi direi di fare così di andare a convertire questi blocchi in diamanti e possiamo andare a posizionare tranquillamente un po di diamanti dentro l'ender chest naturalmente ragazzi questa farm l'abbiamo già vista altre volte ma già con tutti questi diamanti potremo produrre tonnellate e tonnellate di hv solar panel array mettiamo qua questo al centro e così e abbiamo gli energy crystal ne prendiamo subito uno e lo posizioniamo qua perché dobbiamo uscire quindi accendendo il nostro meccanismo da qua escono le cose ragazzi ed è abbastanza palese o e anche questa parte ragazzi è scavata poi vado a finire la decorazione con calma allora qua dobbiamo andare a prendere tutti quanti gli elementi per fare gli hv transformer e mi servirà questa ender chest che contiene gli electronic circuit che sto facendo e ovviamente dovremmo far uscire tutto sempre con i nostri filtri quindi mettiamo il filtro qua e ovviamente lo andiamo a girare ok e una l'abbiamo fatta questo ovviamente andrà a finire con un pneumatic tube all'interno di un'altra di queste automatic crafting table che appunto servirà da punto centrale poi anche di qua dovremo entrare con qualcosa anche di qua e anche di qua da questa parte mettiamo questa ender chest ragazzi che contiene gli mv transformer da questa parte mettiamo questa ender chest che contiene i cable hv e da qua mettiamo quest'altra ender chest che contiene i nostri energy crystal sono quasi emozionato perché stiamo arrivando alla capolinea finalmente oddio cosa è successo esploso allora ragazzi esplosione a parte che non ho capito cosa sia successo ho esponato un mob oppure c'è stato qualche bug strano comunque ho fatto tutti quanti collegamenti codice 109 e qui ho già preparato la ricetta di crafting per gli hv transformer ragazzi ora accendiamo questo meccanismo e in teoria stiamo facendo gli hv transformer e ora ci manca l'ultima ricetta di crafting ragazzi vi ho risparmiato la preparazione di questo meccanismo che è esattamente identico a questo la ricetta di crafting finale è quella che vediamo qua ragazzi medium voltage solar array e hv transformer allora adesso dobbiamo andare però a produrre un bel po di di queste cose quindi andiamo ad accendere questa prima di tutto che fa in modo di produrre tanti solar panel vedete qua avevo preparato scusate qua un bel po di cose quindi si stanno producendo un sacco di solar panel quindi possiamo andare a produrre tranquillamente anche questi altri pannelli che dovrebbero arrivare qua ok quindi low voltage solar array a questo punto possiamo andare a produrre anche i medium voltage eccoli qua ne stanno arrivando un po e ora ragazzi dobbiamo solo attendere per poter far partire l'ultimo meccanismo ragazzi ho sistemato tutto quanto e finalmente possiamo andare ad accendere l'ultimo macchinario siete pronti via facciamo partire andiamo a vedere ragazzi e abbiamo i primi high voltage solar array ragazzi ben due ci vuole un bel po di tempo prima di riuscire a farli ragazzi e ovviamente non ve l'ho detto ma tutti questi macchinari possono anche essere ottimizzati per esempio qua vedete che c'è un piccolo problema ossia non c'è abbastanza energia per il maceratore ma ora avendo gli hv solar array possiamo andare ad alimentare questo mfe proprio con uno di questi pannelli ed ecco qua ragazzi il nostro primissimo upgrade qua ho messo un mfsu che prende comunque della redstone in modo che si possa sempre alimentare anche nel caso in cui non ci sia luce quindi il nostro solar array di alto voltaggio non riesca a prenderla dall'alto poi questo entra nell mv transformer che a sua volta dà corrente al nostro maceratore che ora ho potuto upgradare fino a 10 quindi avere un overclock molto veloce questo ha velocizzato sicuramente il nostro meccanismo e dunque ragazzi questo era l'episodio di oggi della vintage craft spero vi sia piaciuto nel caso lasciate un like ed ovviamente iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto il prossimo episodio sarà un episodio molto speciale quindi non mancate a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio ciao